ciao ragazzi e bentornati sul mio canale allora siamo pronti per partire con la decima puntata del pagellone 28esima giornata di ritorno del campionato di calcio di serie a e andiamo subito a scoprire le posizioni dalla 10 alla 0 prima di cominciare come sempre vi ricordo di lasciare un like per il video di iscrivervi al canale di commentare e di interagire con me che sono sempre pronto a rispondere a tutti i vostri quesiti benissimo non perdiamo altro tempo partiamo subito con la classifica prima posizione quindi voto 10 per luis muriel la doppietta fantastica del piccolo gordito muriel fantastica perché ha sognato due gol veramente meravigliosi 9 gol pensate subentrando dalla panchina è una certezza assoluta per i fantallenatori anche se non è dato informazione voi schieratelo titolare che sicuramente vi ripagherà voto 9 voto 9 quindi a caille hon premio direi più alla carriera che altro perché dopo sette stagioni saluterà la sua napoli e le lacrime dopo la vittoria in coppa italia significano più di mille parole e questo quanto basta secondo me a dare una votazione così alta per la carriera vissuta al napoli e anche per il gol ovviamente che ha segnato nell'ultima giornata proseguiamo subito con voto 8 voto 8 bogà jeremy bogà del sassuolo anche lui subentrato a partito in corso è stato seduto in panca per le praticamente l'inizio della partita per i primi 45 minuti perché de zerbi l'aveva visto un po spento l'ha detto anche lui in conferenza stampa non gliel'ha mandata a dire secondo me e lui comunque si è ripreso alla grande ha segnato due gol veramente bellissime e si è caricato sulle sue spallone tutto il sassuolo che alla fine è riuscito a raggiungere il meritato pareggio per 3 a 3 proseguiamo voto 7 voto 7 e qui chi se no se non frank ribery voto 7 voto 7 come il numero della sua maglia anche se il gol è veramente di un'altra caratura una pennellata veramente di classe giocatore di altro livello secondo me e che nella fiorentina un pochino stona nel senso che gli altri compagni non lo seguono voto 6 voto 6 a rebic rebic anche lui si sta caricando sulle sue spallone ancora più grosse di quelle di bogat il milan continua a segnare non fa rimpiangere assolutamente ibra ottavo gol da quando il campionato è da quando gioca in campionato praticamente ma soprattutto 8 gol pensando anche a quanti minuti ha collezionato quindi in una media veramente molto alta voto 5 voto 5 a kevin lasagna non tanto per la sua partita perché ha giocato un'ottima partita ha segnato due gol ma perché predica nel deserto cioè il voto è una media tra la sua prestazione e quella della sua squadra e adesso l'udinese deve più guardarsi le spalle che guardare davanti a sé voto 4 per il lecce il lecce secondo me ancora in lockdown non hanno capito che il campionato è ripartito soprattutto hanno lasciato le porte spalancate di casa perché continua a prendere caterve di gol ho sentito nell'altro giorno che gabriel ha avuto la sciatica perché a furi di piegarsi per raccogliere il pallone in porta gli è venuto mal di schiena voto 3 voto 3 alla roma alla roma non pervenuta a milano probabilmente il frecciorosso che li trasportava fino al capoluogo lombardo è rimasto bloccato tra firenze e bologna e quindi la champions a questo punto secondo me si allontana definitivamente e non possono far altro che puntare sull'europa league voto 2 voto 2 sempre più in basso la spal troviamo la spal squadra ormai praticamente in serie b che gioca perché deve giocare ma secondo me a questi livelli farebbe fatica anche in serie b a salvarsi perché sta giocando veramente con le mani in tasca senza nerbo senza voglia e senza ormai obiettivi a mio avviso voto 1 penultima posizione per erixen il calciatore strapagato stravoluto da antonio conte da tutti i tifosi dell'inter anche questa giornata hanno dato segni di vita ha fatto intendere di essere partito bene con con la buona prestazione in coppa italia ma niente invece risulta ancora un corpo estraneo alla squadra bene siamo all'ultima posizione voto 0 voto 0 questa settimana mi sento di darlo agli stadi chiusi diciamo così perché comunque vedere questa partita giocate senza pubblico mi ricorda tantissimo i classici tornei di periferia quelli che si giocano a calcetto del dopolavoro ferroviario speriamo quanto prima di riavere le persone allo stadio di vivere le partite live perché così veramente non è calcio bene ragazzi ringrazio per aver visto questo video vi ricordo di rimanere sempre collegati perché sono riprese le partite 29esima giornata e quindi ci saranno la nuova ci saranno le nuove puntate soprattutto il proseguo anche di queste giornate di campionato che si susseguono ormai due o tre giorni ogni due o tre giorni troviamo delle partite quindi restate collegate e collegati scusate e continuate a commentare lasciate un like se vi piace il video e iscrivetevi al canale per non perdervi nessun video vi saluto e alla prossima ciao